No, non faccio queste cose, non ho mai voluto farne. Nessuno ti tiene. Se vuoi puoi anche andartene, che aspetti? Sono senza un dollaro, perciò... Non hai propri amici? Qualcuno che ti aiuti, così? C'è Leo, ma da due settimane che siamo qui, siamo rimasti crack, sì, stracciati. Una roba d'essicità nera. Quante volte ti sei fatta trombare a freddo? E come fai a fare? Quanto dura la cosa? Se tutto fila al meglio, diciamo quattro ore circa. Duecento dollari per queste quattro ore? Sì. Non mi era mai capitato di guadagnare tanto in così poco. Ti è capitato adesso? Anna, vorrei che tu capissi una cosa. Il cinema è una cosa meravigliosa. Non ti va, Pietro? No, no. Pietro è ok. Sei bloccata dalle luci? No, caro. Ma se si tratta proprio di quelle luci, sì. Scene così tu le mie fatte? Per la strada, Harry, o dietro le siepi. Si fa tutto nella vita, quando il sole è già lontano. All'oscuro? Ma qui si fa del cinema. Se ci mettiamo al buio, tu forse potrai godere, ma noi che facciamo? Harry, a me viene sulla pelle d'oca quando sto nuda. E se nel cinema poi si vede? E qualche volta mi viene pure da starnutire quando sto nuda. Le cose che faccio mi piacerebbe farle bene, Harry, senza starnutire, capisci? Giusto. Susan, tu hai ragione, profondamente ragione. Voglio fare di te una star.